Comunicazione informativa del sindaco di Ispica e Nocenzo Leontini, aggiornamento Covid del 18 novembre 2020. Nella giornata di oggi, 18 novembre 2020, i soggetti positivi al coronavirus ad Ispica sono 120. Rispetto all'ultimo comunicato, tre nostri concittadini si sono negativizzati. Il sindaco e Nocenzo Leontini rinnova l'invito a rispettare con scrupolo e rigore le prescrizioni anticontagio. E' l'unico modo che ciascuno di noi ha per fermare la pandemia, lavare o igienizzare spesso le mani, indossare la mascherina sia nei luoghi pubblici chiusi sia all'aperto, evitare assolutamente gli assembramenti, rispettare la distanza fisica di almeno un metro, evitare di incontrarsi in luoghi privati con persone che non facciano parte del proprio nucleo familiare, se necessario, indossare le mascherine, uscire esclusivamente per validi motivi, lavoro, studio, commissioni necessarie. Poche e semplici regole ma di vitale importanza per tutelarci, garantire la salute delle persone a noi care e proteggere la nostra comunità. Il sindaco Innocenzo Leontini.